Buon inizio di settimana ragazzi, oggi il vincitore dei 75 UST della giveaway è Jacopo Zanetti, potete vedere la transazione su BSC Scalm proprio qui e quindi congratulazioni a Jacopo e grazie mille a tutti quanti gli iscritti per il continuo supporto come sempre e in particolare voglio ringraziare Maurizio, Marcus, Leo, Skyworker e molti altri per il continuo supporto, siete assolutamente fantastici e come sempre ragazzi, ognuno di noi facciamo una nuova giveaway per partecipare, basta soltanto essere iscritti e seguire le istruzioni che spiegherò in qualsiasi momento durante il video e come sempre ragazzi, buona fortuna a tutti e adesso cominciamo con il video Ragazzi, oggi parleremo di uno schema folle che si sta verificando per Bitcoin, adesso parleremo anche del mio nuovo trade qual è il mio piano appunto per questo trade dove siamo entrati, vi spiegherò tutto quanto in questo video parleremo anche di Bitcoin sui tempi più brevi come sempre e anche sui tempi più lunghi e quindi ragazzi, come sempre, bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portandovi riguardo le cripto ogni giorno non stanno come fare solo in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione di avere anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico e detto questo cominciamo subito con il grafico da 4 ore perché possiamo vedere che il bordo della fascia arancione sta ancora reggendo abbastanza bene il prezzo di Bitcoin e quindi nel grafico da 4 ore le cose sembrano andare abbastanza bene ancora andranno bene fino a quando non scendremo da questi livelli enormi di supporto e uno di questi livelli importanti ovviamente è la fascia arancione penso che ci sia un'altra probabilità che questo livello regga non importa quanto si abberisce il sentimento adesso, stiamo facendo massimi più bassi, sì stiamo facendo anche minimi più bassi e quindi i grafici non sono perfetti adesso però sappiamo che questo livello, il bordo della fascia arancione è stato molto molto forte in passato ma ovviamente dobbiamo essere preparati per ogni singolo scenario e un'altra cosa anche a cui dobbiamo prestare assolutamente attenzione è anche il grafico settimanale perché per esempio ieri abbiamo chiuso questo grafico, questa candela settimanale su questo grafico e abbiamo attestato nuovamente la tendenza inclinata verso il basso e anche questo non è troppo male per il prezzo e anche la tendenza appunto è ancora intatta noi siamo scesi da questa linea rossa quindi questo grafico non è diventato bearish anche se per esempio abbiamo chiuso invece sotto la 21MA la linea blu appunto che abbiamo qui e quindi questo qua è sicuramente qualcosa di un po' preoccupante però abbiamo ancora questa tendenza che punta verso il basso e questo è ancora un forte supporto anche se ci siamo vicini adesso e quindi dobbiamo essere cauti riguardo questo fatto e per quanto riguarda invece i mercati tradizionali voglio mostrarvi anche come hanno aperto ieri perché non siamo riusciti a fare un rally sopra la fascia arancione in effetti abbiamo continuato a scendere verso il basso siamo proprio ora sotto la linea arancione che abbiamo a 4.470$ e quindi stiamo prestando attenzione anche a questo ma parliamo anche del mio trade invece prima di parlare del modello appunto importante che si sta verificando adesso per quanto riguarda Bitcoin e quindi abbiamo aperto un trade su Delta Exchange e come sempre ragazzi avete anche il link in descrizione se volete controllare Delta e quindi siamo entrati a 42.000$ e 204 e perché siamo entrati a questo livello? bene perché come sapete abbiamo la linea rossa nel nostro grafico abbiamo anche la nostra fascia arancione proprio in questa zona e quindi siamo entrati a questo punto penso che ci sia un'altra probabilità che questo regga e se non regge ovviamente abbiamo anche uno stop loss quindi non abbiamo ancora raggiunto lo stop loss ironia della sorte perché siamo appena entrati appunto nel trade ma lo stop loss sarebbe proprio in questa zona voglio mostrarvelo perché sarebbe proprio in questo punto e quindi se dovessimo scendere dal minimo di questa candela questo è circa 41.000$ e 850 questo qua sarà lo stop loss e quindi alla fine non rischiamo molto stiamo rischiando forse un 0,6% il che non è così male ma se dovessimo vedere un rally questo è un trade a breve termine ragazzi quindi in questo caso andrei a prendere profitto a questo punto verso i 45.000$ e quindi terremo questo trade per diverso tempo poi ricordate che se dovessimo scendere al di sotto di questo livello questo attiverà appunto lo stop loss e se volete entrare voi stessi in questo trade a proposito avete anche il link in descrizione noi abbiamo aperto un market order quindi abbiamo inserito questo tipo di ordine con una leva da 10 per e se inserite qualcosa come per esempio un 150 contratti troverete il saldo e il margine appunto che dovrete avere a disposizione e questo qua è un market order consigliamo in generale di usare limit orders perché risparmirete un po' di soldi sulle commissioni avrete anche il prezzo esatto che desiderate essere eseguito ovviamente questo qua non è un consiglio finanziario ragazzi però molte persone ci chiedono di mostrare appunto quando apriamo dei trade ci sono molte persone che ci chiedono di mostrare anche come eseguire un trade e quindi è veramente molto molto semplice se invece volete andare in short potete anche andare in short non considererei appunto di andare in short adesso perché siamo sul bordo di questo enorme livello di supporto ma se volete farlo potete semplicemente alternare appunto tra long e short in questo caso il prezzo di liquidazione non è male è verso i 38.200$ ma proprio come ho detto il mio stop loss verrà attivato prima ancora di raggiungere questo livello a prescindere quindi per raggiungere uno stop loss adesso basta semplicemente fare clic su questa X proprio qui e vediamo dove sarà lo stop loss sarà esattamente a 41.800$ e possiamo vedere anche la perita appunto prevista e quindi adesso ragazzi parliamo dello schema importante perché stiamo vedendo accadere qualcosa di pazzesco per bitcoin e quindi questo modello è il Justin Mami's Sentiment Cycle e quindi cos'è esattamente questo bene Justin Mami's è l'autore di The Nature of Risk Stock Market Survival e anche The Meaning of Life e quindi abbiamo tante cose da controllare qui ma in pratica il mercato è un meccanismo per incasinare quante più persone possibile il più spesso possibile dice e penso che molti investitori in particolare nelle crypto possano sicuramente essere d'accordo su questo inoltre abbiamo anche una rappresentazione grafica degli stati d'animo depressivi tipicamente vissuti dai partecipanti al mercato in funzione del tempo e del prezzo in un ciclo di sentiment completo e quindi quando guardate il grafico stiamo osservando il sentimento delle persone l'ansia e l'euforia nel mercato e vediamo anche il tempo ed il prezzo appunto nel mercato e quindi ha creato questa struttura generale dopo un grande calo per esempio abbiamo un po' di consolidamento abbiamo la fase di panico abbiamo poi andiamo sotto questa linea blu che abbiamo in questo grafico e quindi questo qua è il prezzo di bitcoin quello che abbiamo in basso e quello che abbiamo in alto invece il modello reale quindi andiamo sotto proprio come possiamo anche vedere nello schema andiamo sotto questo grafico e poi abbiamo anche un altro rialzo e guardate questi due punti alti per esempio ragazzi in questa zona perché sono simili a questi che abbiamo nello schema poi continuiamo perché abbiamo anche questo fatto abbiamo il nuovo test della linea blu abbiamo il test nello schema abbiamo anche questo punto alto particolare proprio qui quindi facciamo un rally ma poi scendiamo di nuovo verso il basso facciamo un nuovo test e superiamo di nuovo la linea andiamo verso l'alto dove aver superato questa resistenza e protestiamo di nuovo verso il basso la domanda adesso ragazzi insomma è questa perché dobbiamo vedere se questo seguirà la fase di ansia che abbiamo anche nello schema dove andremo per esempio ad avere un altro grande calo dopo il prossimo rally che in pratica significherebbe che saliremo di nuovo fino ai 48 mila dollari e scenderemo poi di nuovo verso i 42 mila dollari prima di fare un rally verso i 72 mila dollari verso l'alto o qualunque cosa sia e quindi questo qua è davvero interessante ora questo qua è un modello molto grezzo e ogni modello è valido fino a quando non è più valido e quindi possiamo continuare a controllare questo ragazzi possiamo continuare a guardare questo fatto e vedere se il prezzo seguirà questo schema che stiamo controllando ma ovviamente ci sarà una sorta di variazione nessuno schema viene seguito al 100% ma fatemi sapere se volete che vi tenga aggiornati a riguardo penso che sia piuttosto interessante insomma fatemi sapere qui nei commenti se volete che vi tenga aggiornati riguardo questo schema adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda dalla sezione dei commenti quale pensate che sarà il prezzo di Ethereum a fine maggio fatemi sapere nei commenti e neviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta di viare il portafoglio una volta soltanto anche se si risponde a più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video e inoltre ragazzi domani non ci sarà un video perché Chris è in viaggio e quindi ci vedremo direttamente mercoledì ragazzi e quindi buon inizio di settimana a tutti quanti e grazie mille per la visione di questo video come sempre fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti